Ciao, sono Stefania di Makersub, il laboratorio artigiano digitale che si occupa di formazione sulle nuove tecnologie con bambini e ragazzi, divulgando le discipline dell'artigianato digitale come la stampa 3D, il taglio laser, ma anche il coding e la robotica. Per questo abbiamo pensato a Young Maker School, una raccolta di videocorsi per diventare un vero e proprio maker. Ma cosa vuol dire maker? Il maker è il moderno inventore che sa costruire le proprie idee e per costruirle ha bisogno di conoscere tante tecnologie e strumenti diversi. Il maker sta a metà tra i vecchi artigiani come il falegname e le nuove tecnologie digitali che ci consentono di costruire usando i computer. Con Young Maker School impareremo a conoscere tutte queste tecnologie con un metodo pratico e divertente. Infatti impareremo facendo, affronteremo ogni argomento costruendo concretamente qualcosa. Insomma, teoria sì, ma anche tanta pratica, perché facendo si impara meglio. Vediamo i corsi che abbiamo preparato per voi. Young Maker School è composta da tre videocorsi che per noi sono fondamentali per diventare un vero maker. Stampa 3D, taglio laser e coding. Ma vediamoli nel dettaglio. Stampa 3D, impareremo cos'è e come funziona. Vedremo insieme i diversi contesti in cui viene utilizzata, dalla Formula 1 alle navicelle spaziali. Utilizzeremo insieme Tinkercad, un programma che ci aiuterà a disegnare gli oggetti da stampare. Realizzeremo i tuoi primi oggetti in 3D, che riceverai a casa al termine del corso. Taglio laser. Vedremo come è fatta una macchina per il taglio laser, come funziona e perché è utile per tagliare tantissimi materiali diversi. Capiremo come progettare oggetti adatti a questa tecnologia, usando Escape, un software di grafica gratuito. Infine realizzeremo vari oggetti, che riceverai a casa al termine del corso. Coding, un corso completo che ci porterà alla realizzazione di un videogioco personalizzato. Useremo insieme Scratch, un software gratuito e online, che ci permetterà di costruire storie interattive, animazioni, videogiochi tramite una programmazione a blocchi. Questi tre corsi compongono la nostra Young Maker School e potrete acquistare il pacchetto completo ad un prezzo vantaggioso. Oppure il pacchetto Maker, con solo stampa 3D e taglio laser. o solo il corso di coding. Young Maker School è la scuola dei maker per i ragazzi dei 7-14 anni che hanno voglia di imparare a realizzare le proprie idee. È composto da più di 4 ore di video lezioni, che saranno sempre disponibili accedendo al nostro sito. Al termine del corso avrai imparato ad usare tre diversi software dedicati alla stampa 3D, taglio laser e programmazione. Riceverai a casa tua un oggetto 3D e un oggetto tagliato a laser. E infine potrai giocare al tuo videogioco personalizzato. Nel link in descrizione avrai la possibilità di acquistarli direttamente sul nostro sito. I primi 50 potranno usufruire di un prezzo agevolato. Vi aspetto allora all'interno della Young Maker School. Cliccate sul link e ci vediamo dall'altra parte.